Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale, i problemi di erogazione che hanno afflitto le zone di Roccazzelle, Manfria e Tenutella sarebbero già in via di risoluzione Sicilia Acqua e aveva limitato la distribuzione senza avvertire preventivamente i residenti dei conseguenti turni di distribuzione. Oggi dopo un confronto tra l'assessore all'emergenza idrica Filippo Franzone e Sicilia Acqua e tutto dovrebbe tornare lentamente alla normalità. Sentiamo il servizio. Senza acqua da 12 giorni è causa della scarsa pressione e di difetti legati alla turnazione, quanto accaduto a diverse famiglie residenti a Roccazzelle, Manfri e Tenutella. Le utenze servite dalla rete idrica gestita da privati hanno risentito anche loro del razionamento dell'acqua da parte di Sicilia Acqua, che però aveva chiuso semplicemente l'erogazione senza avvertire preventivamente i residenti dei conseguenti turni di distribuzione. E così, nonostante poi l'erogazione sia stata portata due volte alla settimana, molte famiglie sono rimaste a secco per giorni con i disagi che ne conseguono. La situazione oggi però, dopo un confronto tra l'assessore all'emergenza idrica Filippo Franzone e Sicilia Acqua, sembra tornare lentamente alla normalità. Abbiamo incontrato il presidente del comitato di Roccazzelle Pianemarina, abbiamo incontrato anche il gestore di Divina Acqua e abbiamo risolto la questione con Sicilia Acqua e praticamente Sicilia Acqua aveva chiuso quel passaggio di acque e non aveva comunicato in tempo la turnazione. Quindi la turnazione in quei territori sarà il lunedì e il giovedì. La pressione è stata pure aumentata in modo tale da poter accendere la pompa e far arrivare le acque anche nelle zone alte di quei territori, quindi il problema è stato risolto. Come mai ci sono delle abitazioni che sono rimaste senza acqua per ben 12 giorni? Purtroppo la morfologia di quel territorio ha zone basse e zone alte, se non arriva abbastanza pressione non si può accendere la pompa e quindi le zone alte non sono state servite per questo motivo. Ma ieri abbiamo provveduto a far alzare la pressione a 8 litri al secondo, è stato possibile accendere le pompe, quindi questo problema si è risolto pure. Il rafforzamento della dotazione idrica destinata alla città è stata una delle prime sfide obbligate che l'amministrazione comunale si è trovata ad affrontare davanti a un'emergenza conclamata. Dai due nuovi pozzi pantanelli arriveranno quantitativi ulteriori. Le risorse del nuovo pozzo, grazie all'individuazione di una soluzione tecnica temporanea da parte di Caltacqua, consentirà di poter utilizzare fin da subito le risorse idriche mediante un percorso graduale di attingimento e potabilizzazione per un totale di circa 12-15 litri al secondo. Contestualmente Caltacqua ha pure completato i lavori di ripristino e messa a norma del secondo nuovo pozzo presente a Pantanelli, che una volta completato entro luglio l'iter autorizzativo condiviso con l'autorità sanitaria, consentirà l'utilizzo di ulteriori importanti risorse pari a 12-15 litri al secondo da immettere nella rete di distribuzione. Abbiamo ancora bisogno di qualche litro al secondo in più, però stiamo per normalizzarla. A breve avremo altri 5 litri al secondo dal quinto pozzo. Entro fine mese dovrebbero consegnarci anche l'acqua del sesto pozzo e quindi a quel punto il problema sarà risolto per tutti i quartieri definitivamente. L'incontro odierno a Palermo tra l'amministrazione comunale e il presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti è stato rinviato. I impegni istituzionali urgenti dello stesso Monti hanno determinato l'impossibilità della riunione. Sul tavolo rimane sempre l'eterno porto-rifugio. Doveva essere un primo confronto con il presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti al centro della verifica soprattutto del porto-rifugio. L'incontro previsto per oggi a Palermo però non si è tenuto. Un impegno istituzionale sopraggiunto ha impegnato Monti in altra sede e così la verifica con il sindaco Tarenziano Di Stefano è rimandata. Il porto-rifugio ad oggi rimane una delle incompiute di maggior rilievo. Recentemente gli interventi hanno permesso di scavare un canale interno per consentire l'ingresso e l'uscita dei mezzi. È necessario però l'escavo completo da accompagnare ad una revisione netta del braccio di ponente. Ormai da anni, come denunciato al comitato Proporto, il sito soffre per le conseguenze di un insabbiamento che lo ha tagliato fuori da ogni investimento e dalle tratte strategiche del Mediterraneo. Di portisti e pescatori non hanno un porto fruibile. L'amministrazione comunale vuole andare avanti per cercare di concretizzare i lavori per l'escavo complessivo. I costi sono aumentati, ma i fondi iniziali ci sono e vanno sfruttati. Gli oneri da affrontare sono in capo alla stessa autorità che gestisce il sito, così come il porto-isola, ora con alcuni nuovi attracchi. Il sindaco Di Stefano, nel ripartire le deleghe agli assessori, ha affidato al DEM Arancio, proprio quella che riguarda la portualità. I tempi per arrivare ai lavori veri e propri, ancora una volta, non saranno immediati. Il sindaco ha intenzione comunque di chiedere un cronoprogramma preciso direttamente a Monti e alla sua autorità. Dopo il primo intervento iniziale si rientra nel cuore del progetto di riqualificazione per realizzare il parco Orto Pasqualello. I nuovi percorsi a redi urbani, compresa un'area playground e uno spazio dog park. Ieri pomeriggio è stato firmato il contratto di affidamento alla ditta Cosiam, già affidataria dell'appalto, che entro il 26 agosto dovrà consegnare la progettazione esecutiva dei lavori che dovrebbero riprendere entro metà settembre, subito dopo il rilascio degli ultimi pareri tecnici contabili. Al momento della firma erano presenti Paola Greco per la Cosiam, Luigi Di Dio, assessore ai lavori pubblici, il dirigente Antonino Collura, Ruppo e Raffaella Galanti, il funzionario dei lavori pubblici Orazio Marino. Due mesi fa, la prima fase dei lavori, che hanno compreso la bonifica e la totale pulizia delle aree verdi, dove sono state anche trovate delle micro discariche di rifiuti. L'appalto consentirà di collegare il centro storico con il lungomare, sfruttando un'area di prestigio abbandonata da decenni. I ragazzi dell'oratorio salesiano incontrano la Polizia di Stato, una giornata all'insegna della legalità che l'oratorio ha voluto donare ai giovani alla vigilia dell'anniversario della strage di Via D'Amerio. Gli 850 ragazzi del Grest hanno vissuto un intero pomeriggio a stretto contatto con tutti i reparti della Polizia di Stato che hanno animato il piazzale dell'oratorio con i loro uomini e mezzi. Sentiamo. Una grande scritta contro la mafia formata da tutti i ragazzi del Grest che campeggia al centro del piazzale dell'oratorio salesiano circondata dalle volanti della Polizia di Stato sopra il ritratto iconico di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si è conclusa così la giornata della legalità che l'oratorio ha voluto donare ai giovani alla vigilia dell'anniversario della strage di Via D'Amerio. Una giornata che gli 850 ragazzi del Grest hanno vissuto a stretto contatto con tutti i reparti della Polizia di Stato che hanno animato il pomeriggio con i loro uomini e i loro mezzi. E così tra selfie sulle volanti a sirene spiegate o sulle moto della stradale i ragazzi hanno potuto apprendere le tecniche investigative della Polizia scientifica o conoscere i reparti cinofili e quelli a cavallo apprendendo quanti e quali sono i compiti della Polizia sul territorio. Tutto con un filo rosso comune, il senso profondo della legalità nel solco tracciato da tutti quei servitori dello Stato che hanno dedicato la loro vita alla tutela del Paese. Grande l'emozione anche per investigatori navigati come il vicequestore Giovanni Minardi, una vita dedicata alla lotta in prima linea alla criminalità nelle strade e ieri impegnato invece a dispensare consigli e sorrisi ai ragazzi. Siamo stati invitati dai salesiani, siamo stati sicuramente come amministrazione orgogliosi di organizzare questo evento. La cosa importante è riempire questa parola di significato e non renderla una parola vuota. Quindi abbiamo fatto l'incontro con i ragazzi spiegando che quotidianamente la parola legalità si riempie con gesti e con vatti. Gioia ed emozione anche per i tantissimi ragazzi del Gress. Nessuno di loro era ancora nato negli anni bui delle stragi. Ecco perché diventano fondamentali i momenti come quello di ieri che li avvicinano a un mondo spesso troppo lontano. La gioia di aver avuto la Polizia di Stato qui con noi oggi che giornalmente è una cosa che noi vediamo soltanto da lontano ma che oggi tocchiamo e abbiamo molto vicino. Qual è la cosa che più ti ha colpito oggi? La gioia dei bambini nel poter avvicinarsi di più a questo ambito. Cosa ti resterà impresso di questa giornata? Soprattutto le attrazioni che ci sono e poi è una giornata molto significativa perché è un argomento molto importante questo. Mi ha colpito molto la vicinanza che hanno avuto i ragazzi con questo mondo quindi il poter salire sulle moto, il poter accarezzare i cani, i cavalli, cioè vedere proprio un mondo molto lontano dal normale vicino ai ragazzi. Una giornata importante organizzata nel dettaglio dall'agente Andrea Campanaro che nell'oratorio salesiano è cresciuto e si è formato e che adesso da poliziotto ha voluto restituire la sua esperienza ai ragazzi. La gioia più grande è quella che da piccolino io non ricordo di aver visto mai la polizia qua dentro e adesso da gente diciamo che rivivo il passato, il presente e il futuro. Un'emozione grandissima. Oggi 850 ragazzi, bimbi di qualsiasi età, parliamo dai 6 anni ai 14, con mesi polianimatori 16-17, hanno avuto la gioia, la felicità di visitare i reparti diciamo della polizia di Stato. Alla fine della giornata, a cui è preso parte anche il sindaco Terenziano Di Stefano, il vice dirigente Minardi e il commissario Federica Filetti hanno consegnato la Coppa Legalità alla squadra vincitrice del Grest. La cronaca, i controlli hanno portato a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei titolari del Lido Balneare nella zona di Roccazzelle. L'attività è stata condotta dai carabinieri e dal personale dell'ispettorato del lavoro. Non ci sono ancora riscontri più approfonditi sull'attività portata avanti, ma pare che siano state accertate violazioni della normativa anche in materia di gestione dei rapporti lavorativi. Cambiamo argomento, i DEM si affidano all'esperto Gaetano Orlando, consigliere comunale di lungo corso, per la guida del nuovo gruppo consigliare. Sulle commissioni da costituire escludono tensioni. Sentiamo. Una breve riunione anche per fare l'appunto sull'avvio dell'attività dell'aula consigliare. I DEM ieri sera hanno scelto all'unanimità di affidare il ruolo di capogruppo al medico Gaetano Orlando, ormai consigliere di lungo corso, il più suffragato alle amministrative e nella lista del partito. Il vice sarà Antonio Cuvato, per lui è la prima volta in consiglio. Della gruppo consigliare fanno parte inoltre Giuseppe Fava, tra i dirigenti della prima ora del PD, Antonio Moscato, Lorena Alabbiso e Maria Grazia Facciana. I democratici, proprio con Orlando, sembravano in lizza per la presidenza e l'assemblea cittadina. Gli equilibri interni e di Stefaniani hanno portato il gruppo a fare un passo indietro, pure per ragioni pratiche. Gli esponenti del Partito Democratico non intendono tirare la corda neanche sulle commissioni. Faranno le loro proposte e le inoltreranno al presidente giudice, come è precisa proprio Orlando. I DEM intendono muoversi sulla base delle competenze professionali di ognuno di loro. Escludono comunque problemi interni alla maggioranza. Pare evidente che con il sindaco Di Stefano, espressione diretta dei civici di una buona idea e ora con la presidenza a 5 stelle, i democratici attendono spazio in giunta, mentre nelle commissioni potrebbero rambire ad alcune presidenze di peso. Ed inizio settimana va avanti la protesta dei lavoratori dell'azienda TCD. Come abbiamo già riferito, contestano ritardi nei pagamenti, ma anche inefficienza nell'attività di cantiere e più in generale nell'organizzazione. Ieri gli operai delle aziende si sono radunati davanti ai tornelli della raffineria. Questa mattina i dipendenti della società dell'indotto hanno solidarizzato, ritardando l'ingresso nel sito di Contrara Piana del Signore. I vertici della TCD e il legale che rappresenta la società in questi giorni hanno escluso anomalie. La rappresentazione sindacale Cobas col coordinatore Francesco Cacici insiste invece sul fatto che i lavoratori abbiano il diritto di protestare per i ritardi nei pagamenti che vengono considerati fin troppo frequenti. E già sul tavolo del segretario generale un avviso pubblico per l'organizzazione dell'estate gelese, anche se in notevole ritardo, dovrebbe comunque garantire delle serate di svago per i cittadini. Intanto il sindaco ha emesso l'ordinanza per il controllo della movida notturna. E già sul tavolo del segretario generale un avviso pubblico per l'organizzazione dell'estate gelese. L'assessore allo sport, turismo e spettacolo ha fatto sapere che, anche se in notevole ritardo sulla tabella di marcia a causa del ballottaggio del 23 giugno che ha decretato il nuovo sindaco e l'attuale situazione del dissesto, che pesa sul comune come una spada di damocle, saranno organizzate nel mese di agosto e per le celebrazioni della patrona Maria Santissima d'Alemanna, delle serate patrocinate dal comune e dall'assessorato allo sport, turismo e spettacolo. L'estate gelese noi stiamo preparando un avviso pubblico, è già sul tavolo del segretario generale, penso che a giorni verrà firmato, verrà pubblicato, 15 giorni il tempo di avere le manifestazioni di interesse, poi la commissione si riunirà per stabilire un calendario. È chiaro che questo è un comune in dissesto, noi non possiamo spendere, non siamo autorizzati a spendere solamente per servizi essenziali, quindi poi dobbiamo mettere in campo una strategia che ci possa portare magari a delle sponsorizzazioni. L'impegno è massimo, i temi sono tanti, diciamo io faccio un abbattuto ultimamente più che la pianificazione dell'estate gelese e del fine estate gelese, perché i tempi burocratici sono questi e siamo già a fine luglio. Dovreste riuscire a realizzare qualcosa in tempo per la festa della patrona? Quello è l'obiettivo principale, in ogni caso in questi giorni come potete vedere già si sta creando del movimento, abbiamo dato dei patrocini gratuiti e ci saranno delle serate importanti tipo archesto, ci sono gli appuntamenti con il professore Ragona presso le mura federiciane, insomma qualcosa semplicemente con il patrocinio, perché io ricordo a tutti che il patrocinio è anche una forma di contributo che dà il comune, perché diamo la possibilità appunto di poter occupare il suolo pubblico a costo zero. Intanto, facendo seguito alla direttiva emanata dal prefetto di Caltanissetta dopo la riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico sul controllo della movida notturna, il sindaco Terenziano Di Stefano ha emesso ieri un'ordinanza di vendita di alcolici e superalcolici durante la stagione estiva. Secondo l'ordinanza, su tutto il territorio comunale, fino al 30 settembre 2024, dalle 23 è vetata la vendita della somministrazione, nonché la detenzione, il consumo e il luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all'interno dei locali e degli spazi pubblichi legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Con questa ordinanza è stata regolamentata anche la diffusione musicale e musica dal vivo, comunque nel rispetto dei valori limiti assoluti e differenziali previsti dalla legge, dal lunedì al giovedì fino all'una del giorno successivo, il venerdì sabato e prefestivi fino alle due, la domenica e festivi infrasettimanali seguiti da giornate lavorative fino all'una del giorno successivo. A Elidi è stata concesso un'ora in più rispetto alle fasce indicate nei diversi giorni della settimana. Fa eccezione il periodo che va dal 9 al 22 agosto, durante il quale potrà osservarsi l'orario fino alle 3 del giorno successivo. L'attività musicale all'aperto, ovvero concerti, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante gli appositi invianti, sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta al limite delle ore 2. Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all'aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana, nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17, esclusi lì di balneari. E prosegue la verifica sul servizio rifiuti. In settimana il sindaco Di Stefano ancora una volta ha incontrato il managgimento degli impianti SRR, società che gestisce le attività in città. Il servizio rifiuti è tra quelli maggiormente al vaglio dell'amministrazione comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha mantenuto per sé la delega e anche in settimana ha fatto il punto insieme al management e ai tecnici di impianti SRR, la società che porta avanti le attività sul territorio comunale. L'impellenza maggiore in questa fase riguarda l'attività di pulizia, mentre la raccolta rientra in standard di maggiore efficienza. Il sindaco non l'ha nascosto neppure negli scorsi giorni. Vorrebbe un'accelerazione proprio delle attività di pulizia delle aree urbane. Alle termine dell'incontro le parti hanno parlato di un clima molto sereno. Nell'accorso di un precedente tavolo di confronto il sindaco aveva optato per una piena gestione del cronoprogramma degli interventi affidata direttamente ad impianti SRR. L'amministrazione comunale intende però vigilare e insiste per dare maggiore centralità ai lavori per il decoro urbano. Sono in corso verifiche anche in presenza comunque di rappresentanze politiche della maggioranza. Entro fine mese in aula consigliare potrebbe arrivare il piano economico finanziario che detta gli assetti principali del servizio a livello di costi. È uno strumento ormai quasi del tutto demandato alla SRR 4. È tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti. Vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Adesso vi lascio le previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.